E' vero che 1.000 LP diventi papà? No, non credo Consigli versieri del Rankle, scrivi il grande niche mag Eh bro, prova a giocare bene e a vincere Dissi può aiutarti Dovranno sciogli i rift leandri? Sì, ma è meglio mid Oppure se hai la comp, full a D Se fai l'ultimo item, dipende O fai la Swiss, però fai un leandri Tipo qui, ci manca danno a D Potremmo fare la build a P E penso proprio che la faremo Sì Perché stiamo pullando, bro? Eh, non lo so Abbiamo pullato contro Caitlyn Veramente una grande idea Bello essere chiesi sotto torre al minuto 1, vero? Allpok Bello Forza Forza che diamo anche Maokai Bello Buonissimo Team non sembra felice però Si deve uscire i commit con la build a P Sì perché vai a spiegare più male con sta build Ma che range c'ha, bro? Buonissimo Cazzo Peccato Lantern Buon mattino Va bene Multiscen Ma perché non corrivi via, bro? Ci ha aperto Pain Quando d'arrivare 0-4 pain, bro 0-5 mi sa Qui sta 5-0 chiesante Il tipo ci ha rovinato la compa E è andato a 0-5 Una bella compa What Ma quanto è bad Sto tipo Non male Multiscen Amorzo Però ci manca a ultare Vabbè 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 Non ho se li killi tutti Ho detto che te li killi tutti Mangiali 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 La voglia A killare Alfonso anche Bella merda Sono bloccato Puoi morire per favore Lantern Lantern Oh proprio Main sta nel chilling Ok l'abbiamo fatto Dash kidding Oddio Vayne Eccola Ok Il problema di questa build è che il danno non è granché Però Qui è necessario Ok devo chiudere il secondo spec E poi danno Ok Ok abbiamo lo spec Ora siamo dai champion E non cagare il cazzo Minchia l'ha scudato Buone Lantern Cazzo Eh ma noi ci sono da cinque lati Perché stiamo andando in quando sono appena morto Vabbè effettivamente hanno solo tutto Si può fare Chiede il more Aiutate Olaf per favore Se li fa tutti Olaf O di Oxin Non lo so se lo fa Si si se lo fa Penso sia l'Olaf più broken che abbia mai visto E secondo me non c'è manco una build troppo ottimizzata Ok abbiamo disingaggiato abbastanza bene Che non stai buscendo un bot Olaf Ne puoi morire Tutti di scena Good shit Grande 312 vent bro Bene Buon game mid Ah mi ha messo mid Che bello Ciao Giacomo Oggi sono indeciso Se guardare te o il maestro Raiko Che riempie gli esagoni su TFT Mi fai un salto carpiato Per convincermi a rimanere Va bene Saro se spara di verti convinto Perché mi è costata molto fatica Allora contro Aurelion Ah il mio fratello Drago In mid Qui mi sa che si va Allora questo io Non so se è meglio tenerlo in perma push Aurelion come farm sotto torre Oddio non fa parecchia difficoltà Devo dire No Dunque penso che sarà una farm lane per entrambi Ah Ma che Cristo mi danno mi fa Ma stai scherzando Ma il suo Drago è molto più forte Ma cosa vuol dire Io mi sa che mi tengo la V Perché sennò il tipo mi ingaggia Ho capito un po' in ritardo Come si gioca al matchup Ecco appunto Uso la V Lui mi ingaggia Ah c'è un po' più Porca droga Cazzo quello che la E' ancora qua Posso andare a botto Arrivo Buono Buono Tre deve essere abbastanza avanti adesso Ok Ok Sai che botto finisce malissimo Vabbè Sono morti tutti e quattro No 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 Ah What? Non prende danni Poppy Non ci posso credere No per me non è 15 Per me scaliamo Il problema è Arrivarci A scalare Buono Drago Diamo lo Spike Qui mi arriva Voli B E' un po' di nuovo Che voli è mid Direi che push Però può arrivare Mi pop Se mi arriva pop Sono morto Ok pop è mid Non mi arriva nessuno Basta che non morite come dei rincoglioniti Dato che siete uno in meno E mi sa che è meno E sta Eh pinga me mate Eh colpa mia Effettivamente colpa mia bro The mid gap The mid gap Brava Jordan The mid gap Eh va bene Morto Fa fare in culo Yeah you guys Didn't run down At all My bad Ce l'ho avuti fra poco Oh vecchio però Che culo Che grande call è il Baron Andiamo Seguiamo la grande call bro Minchia funziona davvero Ma io non capisco un cazzo Questo gioco Funziona davvero bro Abbiamo vinto il game qua Incredibile Costa wave Siamo in spike Potremmo vincere Vinco io adesso Vole mi spiace Flash Flash Eh ora portano rispetto Vero Stanno tutti zette Da bravi figli di puttana Senta E ora E ora vi siete zitti Pezzi di merda Anyone Has to say Something Eh Yes Your champion Is still shit Like your father Non la ulti Purtroppo Ma adesso Vai finiamo Non male Sittiti un paio di nerd Brufolosi E si gode B Grazie a tutti.